Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laszlo88 e oggi voglio parlare delle candidature ai prossimi premi BAFTA che si terranno il 2 febbraio. I BAFTA sono una cerimonia molto importante insieme ai premi della Screen Actor Guild, della Directors Actor Guild, perché anticipano un po' la tendenza agli Oscar insieme a Anka e Golden Globe e sono i premi fondamentalmente della critica inglese assegnati dalla British Academy for Film and Television Arts. Per cui, come sapete, sono premiazioni di un certo peso e ogni anno io faccio un video in cui parlo delle candidature ai BAFTA. Quindi mi sembrava giusto parlare anche quest'anno, anche per creare un po' di movimento nei confronti degli Oscar. Peraltro, l'ho già detto, ma lo ripeto, in descrizione che trovate il link alla live già programmata per lunedì 13 gennaio alle ore 14, perché verso le 14.30 circa verranno annunciate le nomination agli Oscar 2020 che si possono seguire in diretta sul canale YouTube ufficiale degli Oscar. Quindi le seguiremo insieme, faremo un breve commento e poi il giorno stesso pubblicherò il video in cui faccio un po' di pronostici e parlo delle nomination in maniera un po' più approfondita. Quindi, parlando dei BAFTA, le nomination sono molto interessanti e c'è un film che predomina sugli altri. Francamente non lo avrei detto per quanto sia un film senza ombra di dubbio importante. Quindi, come al solito, avrò il mio bello smartphone in vista, perché le candidature sono tante, quindi voglio parlarne in maniera approfondita e non mi ricorderai mai tutti i titoli e i nomi, per cui è la solita cosa. Allora, iniziamo con il miglior film. C'è 1917 di Sam Mendes, c'era una volta Hollywood di Quentin Tarantino, The Irishman di Martin Scorsese, Joker di Todd Phillips, Parasite di Bong Joon-ho. Allora, in realtà, secondo me, era un po' prevedibile, sono più o meno gli stessi che c'erano per quanto riguarda i Golden Globe, per la categoria miglior film drammatico, perché comunque sono meno le candidature in queste categorie rispetto agli Oscar, che possono arrivare fino a dieci. E infatti, secondo me, agli Oscar troveremo anche alcuni dei film che erano candidati con miglior film con medio musicale ai Golden Globe. Dovendo ridurre a soli cinque titoli questa rosa, le scelte che sono state fatte mi sembrano coerenti, alla fine sono i film che vengono più chiacchierati nelle ultime premiazioni. 1917 uscita da noi tra un paio di settimane, sono molto curioso, perché è un war movie girato tutto in piano sequenza. Ovviamente non si tratta di un vero piano sequenza, di un piano sequenza artefatto, ovvero composto da più piani sequenza, che però sono mascherati in modo che il risultato mostri un'unica inquadratura, ma è un'illusione ottica. Credo che siano veramente pochissimi i film che sono stati veramente girati in piano sequenza, tra cui Arca Russa, che se non avete mai visto vi consiglio di guardare, in quanto è semplicemente splendido. Di Irishman mi sembrava scontato, bisognava assolutamente inserirlo. C'era una volta a Hollywood, sono contento che venga così preso in considerazione, quindi mi auguro che anche agli Oscar lo ritroveremo candidato in molte categorie. Joker direi che era neanche così scontato in realtà, però ci sta. E Parasite, ecco, Parasite era scontatissimo, in quanto Bong Joon-ho ha creato un film straordinario, che secondo me verrà candidato in ben più di una categoria agli Oscar, quindi non solo come miglior film straniero. Staremo a vedere, ma sono molto curioso. Miglior film britannico, perché ai BAFTA ci sono anche le categorie dedicate agli artisti britannici. Per quanto riguarda il miglior film, io sono abbastanza convinto che ai BAFTA vincerà... Io tendo a dire Joker. Siccome per come sono quelli che votano i BAFTA, i giudici, chiamiamoli così, Joker è un film che ha colto nel segno, mia modesta opinione, quindi io dico Joker. Per il miglior film britannico i candidati sono quelli che ho appena detto, e secondo me vincerà Rocketman di Dexter Fletcher, perché comunque è un film su Elton John, che nel Regno Unito è un personaggio molto importante, celebrato, si rifà un po' la tendenza di Bohemian Rhapsody, quindi secondo me, io sono abbastanza convinto che vincerà per l'appunto Sam Mendes, scusate Sam Mendes, vincerà per l'appunto Dexter Fletcher, per quanto anche gli altri siano dei film interessanti, che si meritano sicuramente la candidatura, però Rocketman, per come sono quelli dei BAFTA, è quello che ha più possibilità. Miglior debutto di un regista sceneggiatore e produttore britannico, Wadal Katehab, regista produttrice, Ed Heather Watts, regista per Forsama, Alvaro Delgado, apparizio, regista sceneggiatore per Retablo, Alex Holmes, regista per Maiden, Mark Jenkins, regista sceneggiatore, Kate Byassi, Lynn Waiti, produttrici per Bait, Harry Woodleaf, regista sceneggiatore per Only You, qui non saprei dirvi, non posso fare un pronostico, perché la maggior parte di questi non li ho ancora visti. Miglior film di lingua straniera, è questo, è importante, Dolori Gloria di Almodovar, The Farewell, una bugia buona, di Lulu Wang, Forsama di Wadal Katehab, Edward Watts, Parasite di Bong Joon-ho, ritratto della giovane in fiamme di Céline Sciamma, qua, secondo me, vincerà Parasite, e non ho dubbi su questo, a meno che non vadano a premiare Dolori Gloria, ma secondo me Parasite è di un livello superiore rispetto a tutti gli altri, che sono comunque degli ottimi film, niente da dire. Miglior documentario, io ve li dico, ma non vi darò un pronostico su questo, per lo stesso motivo per cui non l'ho dato, per il miglior debutto di un regista sceneggiatore o produttore britannico, e sono American Factory di Stephen Bognor e Giulio Reichert, Apollo 11, regia di Todd Douglas Miller, ecco, questo l'ho visto, posso dirvi che è bellissimo, che questo sì, l'ho visto, Diego Maradona, ho visto anche questo, regia di Asif Kapadia, molto carino, Forsama di Wadal Katehab, Edward Watts, incredibile come Forsama abbia diverse candidature, pur essendo un documentario, faccio notare questa cosa, non che ci sia qualcosa di male, ma solitamente i documentari non vanno mai troppo oltre la loro categoria, capita di rado, The Great Hack, Privacy Violata, di Karim Hamer e Jihan Nujain. Non ho visto tutti, però la presenza di questo Forsama in altre candidature, mi fa pensare che forse possa avere più possibilità rispetto agli altri, per quanto Apollo 11 e Diego Maradona siano molto belli, però ho visto solo quei due, quindi non mi voglio sbilanciare. Medio film d'animazione, Frozen 2, segretto di Arendelle, di Jennifer Lee e Chris Buck, Klaus, i segreti del Natale, regia di Sergio Pablos, allora Klaus è candidato perché può essere candidato ai BAFTA, se non sbaglio non agli Oscar, in quanto non è stato abbastanza nelle sale di Los Angeles, sapete che un film per essere candidato deve essere stato nelle sale per due settimane a Los Angeles, e Klaus mi pare che questa cosa non l'abbia potuta fare, però per i BAFTA non c'era questa restrizione, quindi dagli che si candidati a Klaus e sono molto contento. Sean, vita da pecora, farmageddon, il film che io ho visto ed è bellissimo, Toy Story 4, regia di Josh Cooley. Allora, devo dire, li ho visti tutti, se dovessimo guardare alla qualità, a quanto emoziona il film, io non ho dubbi, dico Klaus, i segreti del Natale che potete trovare tranquillamente su Netflix, è splendido, e vederlo candidato insieme a film decisamente più commerciali, eccezione fatta forse per Sean Farmageddon, perché comunque è sì famoso come personaggio, ma meno rispetto a quelli di Frozen o a quelli di Toy Story, è una cosa che mi è voluto piacere, perché sono un po' i due outsider, Klaus e Sean, vita da pecora, pecora, farmageddon, e vi dico che secondo me potrebbe veramente vincere Klaus, quindi io dico Klaus, e sarei contentissimo se questo dovesse accadere, perché se lo merita, senza non togliere Sean, vita da pecora, pecora, farmageddon, o Toy Story 4, e invece Frozen 2 sì, tolgo, perché no, cioè non dovrebbe stare agli Oscar quel film, perché non è un film da Oscar, neanche da candidatura, se posso dire la mia, ma vabbè, per cui vedremo. Miglior regista, allora, Bongiuno per Parasite, Sam Mendes per 1917, Todd Phillips per Joker, Martin Scorsese per The Irishman, Quentin Tarantino per C'era una volta a Hollywood, io per la regia vi dico Sam Mendes, perché noto che si sta tendendo a premiare spesso lui, lo so che non ho ancora visto il film, ma io cerco di ragionare secondo il modo in cui ragionano le persone che fanno parte della commissione, quindi io dico Sam Mendes, però potrebbe anche vincere Bongiuno, chi lo sa, in realtà qua è proprio un termine all'otto, perché l'unico che a mio modesto parere non ha grandi possibilità di vincere, infatti se vincesse sarebbe un pochino assurdo, è Todd Phillips per Joker, perché non è mai la regia di Joker, è tutto quello che volete, ma Bongiuno, Sam Mendes, scusate, Sam Mendes non lo so, Bongiuno, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, però di sicuro sono stati superiori a Todd Phillips, da un punto di vista registico, quindi se dovesse vincere a Todd Phillips mi chiederei perché. Miglior attore protagonista, Leonardo DiCaprio per C'era una volta a Hollywood, Adam Driver per Storio e Matrimonio, Taron Edgerton per Rocketman, Joaquin Phoenix per Joker, Jonathan Pryce per I Due Papi. Allora, io a questo punto credo, guarda, dovrei dire Tarun Edgerton perché ha vinto anche Golden Globe, ma per motivi che non mi spiego dico Joaquin Phoenix, perché prima ho detto che c'è un film che ha predominato in particolar modo, e quel film effettivamente Joker che ha tantissime nomination in questa edizione dei BAFTA, per cui vi dico Joaquin Phoenix, ma la logica dovrebbe imporre più un Tarun Edgerton, ma forse proprio perché la logica imporrebbe quello che magari premieranno Joaquin Phoenix, secondo me tra questi è quello che se lo merita maggiormente, mi dispiace dirlo per quanto sia stato bravo Adam Driver, per quanto sia stato bravo Leonardo DiCaprio, ma anche Edgerton, niente da dire, Pryce, ma Phoenix è un passo avanti a tutti gli altri, perché Golden Globe ha vinto, ma era in un'altra categoria, se fosse stato nella stessa categoria di Phoenix non avrebbe vinto secondo me, perché ho detto che la logica imporrebbe Edgerton, perché ai BAFTA hanno sempre un occhio di riguardo in più per gli attori britannici, ma stavolta sono piuttosto convinto che Phoenix avrà la meglio. Miglior attrice protagonista, Jesse Buckley per a proposito di Rose, Wild Rose, Scott Johansson, Storie del Matrimonio, Sears e Ronan, Piccole Donne, C'è la vista di Ron, Bombshell, Renée Zellweger, Judy. Qui vi dico, io vi voglio dire Scarlett Johansson, vi dico Scarlett Johansson perché secondo me è stata una spanna sopra a tutti. Miglior attore non protagonista, Tom Hanks, un amico straordinario, Anthony Hopkins per i due papi, Al Pacino per The Irishman, Joe Pesci per The Irishman, Brad Pitt per c'era una volta a Hollywood. Qua vi voglio dire Al Pacino per The Irishman, perché secondo me è stato molto bravo, bravo anche Pesci, ma Al Pacino lo è stato un pochino in più, quindi preferisco buttarmi su Al Pacino. Miglior attrice non protagonista, Laura Dern per Storie del Matrimonio, Scott Johansson per Jojo Rabbit, Florence Pugh per Piccole Donne, Margot Robbie per Bombshell, Margot Robbie per c'era una volta a Hollywood. Quindi due nomination per Margot Robbie nella stessa categoria. Ma vi dico Laura Dern per Storie del Matrimonio, anche se ammetto che Scott Johansson in Jojo Rabbit è stata fenomenale. Niente da dire. Miglior sceneggiatura originale, questa è interessante. Noah Baumbach per Storie del Matrimonio, Susanna Fogel, Emily Alpern, Sarah Hoskins e Katie Silberman per la rivincita delle sfigate, Bong Joon-ho e Anjin Won per Parasite, Rian Johnson per C'era con Delitto, Knives Out, Quentin Tarantino per C'era una volta a Hollywood. Io qui punto su Storie del Matrimonio, che secondo me è più da BAFTA. Non so, secondo me Storie del Matrimonio ha più... È una sceneggiatura che per questo tipo di premiazione è un po' più adatta. Miglior sceneggiatura non originale. Tra le altre cose ragazzi, io continuo a sottolineare quanto quel 2019 sia stato un anno pazzesco, perché queste candidature mettono i brividi per quanto sia alta la qualità. Miglior sceneggiatura non originale, quindi Anthony McCartan per I Due Papi, Greta Gerwig per Piccole Donne, Todd Phillips e Scott Silver per Joker, Taika Waititi per Jojo Rabbit, Steven Zellian per The Irishman. Tenderei a dire... Taika Waititi per Jojo Rabbit, perché è fenomenale ragazzi. Semplicemente fenomenale. Niente da dire. C'è veramente una sceneggiatura impeccabile. Miglior fotografia. Jarin Blaschke per The Lighthouse. Roger... Che sono molto contento che ci sia The Lighthouse come fin candidato. Roger Dickens per 1917. Fadon Papamichael per Le Mans 66, La Grande Sfiga. Rodrigo Prieto per The Irishman. Lawrence Starr per Joker. Scusate, Lawrence Sher per Joker. Credo che qui... Adesso io gli ho visti... Sapete cosa? Non ho visto The Lighthouse perché l'aspetto che arrivi in sala e non ho visto 1917 per lo stesso motivo. Mi verrebbe a dire 1917 perché Dickens, però non è detto, ma mi dicono che la fotografia sia mostruosa, quindi chi lo sa. Vedremo. Miglior montaggio. Andrew Buckland e Michael McCasker per Le Mans 66, La Grande Sfida. Tom Eagles per Jojo Rabbit. Jeff Groth per Joker. Fred Ruskin per C'è una volta a Hollywood. Thelma Schumacher per The Irishman. Io direi Joker in questo caso. No, anzi. C'era una volta a Hollywood. C'era una volta a Hollywood e ha un montaggio che è spettacolare, quindi sì. Dico C'è una volta a Hollywood per Fred Ruskin. Gliocco non sonora. Alexandra Splap per Piccole Donne. Michael Giacchino per Jojo Rabbit. Il Durgut Nadotti per Joker. Thomas Newman per... John Williams per Star Wars La Scesa di Skywalker. Questo mi fa un po' ridere, ma io vi dico Il Durgut Nadotti perché la corona sonora di Joker è fantastica, quindi non ho dubbi su questo. È quello che secondo me vincerà, però magari per mi sbaglio. Bioscenografia. Mark Friedberg e Chris Moran per Joker. Dennis Gassner e Lee Sandless per 1917. Barbara Ling e Nancy Hyde per C'è una volta a Hollywood. Bob Shaw e Regina Graves per The Irishman. Rav Vincent e Nora Sopkova per Jojo Rabbit. Allora, secondo me a livello scenografico, tra questi, le ripeto, c'è sempre questo 1917 che secondo un film bellico potrebbe avere una scenografia interessante, ma per quanto mi riguarda, secondo me potrebbe... Jojo Rabbit potrebbe starci perché le scenografie di Jojo Rabbit sono bellissime, veramente. Migliori costumi. Jacqueline Durran per Piccole Donne, Christopher Peterson e Sandy Powell per The Irishman, Arian Phillips per C'è una volta a Hollywood, Maesirubio per Jojo Rabbit, Jenny T-Mime per Judy. Io direi Piccole Donne per il semplice fatto che essendo un film in costume i costumi sono sempre molto curati e con le piccole donne effettivamente adeco... i costumi di piccole donne sono effettivamente spettacolari. Miglior trucco a conciatura. Vivian Baker, Kazuhiro Tsuji e Anne Morgan per Bombshell, Naomi Donne per 1917, Kai Georgiou e Nikki Lederman per Joker, Lizzie Yann Georgiou per Rocketman, Jeremy Woodard per Judy. A livello di trucco, secondo me tra questi, forse Rocketman è quello che ha il trucco più particolare perché per appunto Tarun Edgerton è diventato fondamentalmente Elton John. Miglior sonoro, David Ackord, Andy Nelson, insomma, faccio prima di dire il titolo. Star Wars da Shazer Skywalker, Rocketman, Le Mans 66, la grande sfida, Joker, 1917. A livello di sonoro, ma io direi Le Mans 66, la grande sfida perché lì il sonoro è importantissimo tra l'azione di un film in cui si parla di una corsa di auto. Migliori effetti speciali, Greg Butler, Guillaume Rocheron, Rocheron e Dominic Tuoi per 1917, Dan Deleu e Daniel Sudik per Avengers Endgame, Leandre Stebe Corena, Stephanie Grabli e Pablo Hellman per The Irishman, Andrew Jones, Robert Legato, Elliot Newman e Adam Valdez per Il Re Leone, Roger, Guillaume, Paul Kevaneg, Neil Scanlon e Dominic Tuoi per Star Wars, la scesa di The Walker. A livello di effetti, secondo me, Avengers Endgame, che a livello di effetti non gli si può dire nulla. Anche Star Wars, se volendo, però, che era forse la cosa migliore del film, però secondo me Avengers Endgame ci sta. Poi qualcuno potrebbe dire Il Re Leone, se ho capito, ma ho capito che si ha dei begli effetti Il Re Leone, però, non si tratta neanche di effetti, cioè è tutto effetti, capito? Miglior, corto animato, non sto neanche a, miglior cortometraggio corto animato, non sto neanche a dirlo. Miglior, stella emergente, Acqua Fina, Kathleen Dev, Diver, Kelvin Harrison Jr., Jack Laudan, Michael Ward, siccome Acqua Fina, che è già stata premata ai Golden Globe e sicuramente ha fatto la sua bella figura. Quindi, come potete vedere, Joker, Domina, ha ricevuto tantissime candidature, per cui, per quanto mi riguarda, potrebbe effettivamente ricevere premi ai BAFTA e potrebbe essere un'anticipazione per quello che in parte ha da gli Oscar, ovvero le molte candidature che potrebbe ricevere i giochi e poi magari lunedì vediamo insieme le nomination e scopriamo che di candidature ne riceve poche, quelle che si meriterebbe e basta. ma secondo me arriverà a essere candidato in molte, molte categorie. Quante poi se ne porterà a casa e quelle statuette non lo so. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, secondo me sono candidature molto equilibrate, è come se essero un po' cercato di accontentare tutti, c'è tanto di Irishman, c'è tanto Joker, c'è parecchio di Jojo Rabbit, poco storia di un matrimonio rispetto a quello che mi si era aspettato ma va bene. diciamo che rispetto ai Golden Globe un po' meno Netflix, non c'è Do I Met Is My Name ad esempio, un po' meno Netflix perché BAFTA sono dei premi un po' meno glamour e un po' più critici, quindi hanno cercato di restringere il campo, non c'è la sua divisione tra film drammatico e film coi, film comedia musicale, insomma, sono delle premiazioni completamente differenti, ma secondo me c'è tanto equilibrio in queste candidature. fatemi sapere voi cosa ne pensate, io vi abbraccio, questo è tanto ma tanto bene e noi ci vediamo lunedì per la live sulle nomination degli Oscar e comunque anche a un prossimo movieblog. Ciao a tutti.